quando si vedono questi video a partire del 2011 ho avuto un infarto e queste cose per chi fa un manismo da 40 anni fanno male, scusate si tenete, avrei preferito parlare prima della visione del video perché io vorrei un attimino, anche voglio l'occasione, non sono un politico ma da ormai 40 anni faccio campagne per la Lega Antidisezionista che come Lega sa benissimo cosa vuol dire combattere contro i poteri forti non combattere contro la biodisezione, si si gli animali non la cacciano qui non l'ha però quando c'è da salvare le persone bisogna divisezionare bisogna fare tutte delle gran palle perché noi sappiamo benissimo che i poteri forti si vogliono cavie da quello che mangiamo e da quello che poi ci curano perché come ci danno da mangiare delle sostanze che sappiamo benissimo che cosa accadde negli avventi intensivi io dovrei parlare di dietica, di dietica non c'è assolutamente niente quindi è una vergogna, uno schifo, sono dei lager io a volte mi domando come queste persone che fanno queste cose dei massatori se li scelgono ci diventano così aguzzini perché sono veramente delle cose vergognose quindi detto questo io ho portato come simbolo questo maiale fatto a scatola perché volevo consegnare ai miei attivisti di Modena perché appunto già i messaggi che passano anche nei video, nei cartoni animati sono sbagliati, dalle pubblicità, dalle famiglie felici che danno cadavere impanati ai bambini a tutta questa falsa retorica che si fa quindi gli animali sono esseri sententi, sono esseri che soffrono e sappiamo benissimo che noi dobbiamo assolutamente tutelarli in questi giorni c'è stata l'ennesima vittoria su Vernil dove alla fine siamo riusciti in primis a cacciare questi allevamenti, questi lager perché anche questi sono lager dove venivano allevati i beagle per la sperimentazione e spero che un domani anche questi lager questi posti di tortura e di morte possano scomparire e qui c'è la politica, la politica può fare molto se pensiamo però ad esempio al flop dell'esporo che dovevamo salvare, come salvare l'umanità dalla fame ma nessuno ha mai parlato agli allevamenti intensivi basterebbe eliminare gli allevamenti intensivi per salvare la popolazione dalla fame ma questo non viene detto, anzi si cerca di produrre una carne che va dalle popolazioni ricche e degli altri che se ne frega quindi qui ritorniamo al famoso discorso che siamo tutti cavi e ci vogliono tutti malati quindi che cosa avviene parlando, e tu mi vien da ridere ma poco c'è da ridere a parlare di etica, che cosa accade a questi animali quando vediamo questi video che non ti trasmettono? accade di tutto, accade che in Italia vengono macellati 13 milioni di maiali l'anno 500 milioni di poli l'anno e tutti questi animali fanno una vita infernale ma dove non esiste e si parla di maltrattamento animale quindi purtroppo non possiamo fermarli il macellatore perché purtroppo la legge glielo consente come consente ai cacciatori di andare ad ammazzare creature quindi è giusto far vedere che si faccia anche nelle scuole una politica di sensibilizzazione nelle grandi città magari ci sono i bambini che i poligni li vedono soltanto arrotolati dentro il cielo fanno delle se lunghe e non sanno che rapporto ci può essere tra l'uomo e l'animale quindi è anche una questione culturale ci sono troppi messaggi che sono sbagliati e quindi a volte queste cose fanno male vedere però bisogna assolutamente che la gente sappia sappia che appunto i maialini gli viene tagliata la coda appena nati con i pistoli roventi perché i maiali sono animali socievoli quindi avrebbero bisogno di paglia, di muoversi di stare tra di loro invece vivono in ambienti ristretti impazziscono, si feriscono, si autolesionano oppure di morire perché poi la macellazione tutto sommato è forse la parte meno dolorosa rispetto a quello che è un maiale da quando nasce che li deve subire in questi allevamenti dove subiscono di tutti e subiscono anche la cattiveria umana perché ci sono già degli sfigati passatemi il termine che devono siamo noi che abbiamo creato gli animali da pelliccia gli animali da laboratorio gli animali d'allevamento intensivo quindi bisogna assolutamente che questa mentalità cambia e vorrei, ne approfitto spero che appunto la politica ci dia una mano qui siamo ancora in uno stato dove si danno i soldi ai cercensi e cose di questo tipo una vergogna una vergogna sempre nascosta dietro i posti di lavoro la caccia, i posti di lavoro l'industria delle armi quindi io faccio parte di un'associazione che ha politica quindi io ho sempre affiancato chi aveva delle buone idee per tutelare i diritti degli animali e lo farò fino alla fine diciamo del mio mandato quindi bisogna assolutamente fare informazione perché siamo bombardati adesso esiste la carne di qualità ma adesso per me ti andano a mangiare delle schifezze con questi antibiotici con questi polli che crescono in 35 giorni e poi appunto vengono subito vengono subito macellati quindi bisogna assolutamente far capire che cosa avviene adesso ho iniziato raccontandovi delle code mozzate come della castrazione con delle mutilazioni orrende con animali che dovrebbero essere uccisi con il chiodo cattivo alla testa o ai denti invece a volte questi conti finiscono negli occhi e questi animali che vengono buttati nell'acqua pollente ancora vivi per togliargli le sete e tutto questo per accelerare i tempi di produzione e tutto questo perché cosa per poi mangiare il prosciutto se ben chiaro anche io l'ho mangiato il prosciutto però alla fine penso che sono queste le cose che dovrebbero far capire che noi non abbiamo nessun diritto a trattare così gli animali perché fanno parte del nostro sistema e volevo anche ricordare che se la terra è in queste condizioni anche il mare non scherza perché anche con l'inalzamento delle temperature ancora a due gradi il mare sarà morto la barriera colorina ha già finito tutto quello che era il suo habitat quindi siamo destinati veramente a scomparire quindi se scompaiono gli animali spariremo anche noi quindi questo ci deve fare ragionare e che secondo me se una persona vegana non è che ci deve essere una lotta tra i vegani e i carnivori secondo me i vegani sono più intelligenti perché hanno capito che e qui volevo ecco per una parentesi bisogna avvicinarsi all'associazione animalista perché le associazioni animaliste fanno gli interessi anche delle persone a cui degli animali non ne fregono niente quando parliamo di ridisezione il nostro slogan è una scienza che tuteli tutte le forme di vita perché sappiamo anche qual è il grosso sbaglio scientifico della ridisezione e quindi anche sull'alimentazione mangiare carne che non fa bene carne che è malata sostanzialmente perché ha sofferto perché ha prodotto tossine perché comunque ci fa male questo deve indirizzarci ad una alternativa intelligente che è per noi etica perché noi dobbiamo capire che queste cose non si debbono fare e nuocciano e poi soprattutto perché dobbiamo tutelarci per la tutela di questo pianeta molte cose sono già state dette più o meno dopo la tenora padana è una blocca a cielo aperto come sappiamo ma altrimenti nasconda prima dalle migliaia di camion che passano sull'autostrada dove questi animali arrivano congelati dentro i camion attaccati alle lamiere vengono staccati urlanti quindi ecco ci tenevo a fare l'intervento prima per farvi vedere le immagini perché poi non c'è come le immagini per far capire e poi che qualcuno dica non lo sapevo e speriamo che questo possa un po' muovere le coscienze di tutti grazie grazie tante anche per averci raccontato questo segreto personale insomma perché purtroppo anche qui gli impatti sono in aumento tra le persone giovani ci dicono che non è vero ma sia gli impatti le leucemie quant'altro noi vediamo i nostri amici ammalarsi tutti i giorni ci dicono che non è vero che siamo allarmisti e speriamo insomma che democraticamente col visto a tutti nel senso che purtroppo si amano sia quelli che non vogliono queste cose che quelli che li vogliono come ultima cosa voglio dire che il destino mi ha portato a lavorare all'OIEO all'istituto del professor veronese e proprio la cosa principale che dicono è quella di non mangiare carne cioè la prima fonte quindi lo dicono i medici i nostri avversari quelli che noi ci prendono e ci dicono che noi preferiamo il canetto al bambino tutte queste sputiteggene qua quindi bisogna seguire questi consigli che di riflesso possono aiutare a veramente a migliorare la salute umana e come per magia abbiamo un dottore buonasera dottor Zolletti grazie grazie a tutti grazie a tutti